Finchè non arriva che la proloca la devi mettere, la mettono sempre un istante prima della dichiarazione del vincitore Per cui viene chiamato questo assessore sanremese Il momento mio preferito Tu è lì, sempre di, normalmente centrodestra Sì, sempre, sempre di centrodestra Siamo felici di aver ospitato Festival, però volevamo dire che questi immigrati non ce li volevamo più Eh no, grazie, grazie Cashmere, un podcast morbidissimo, morbidissimo, morbidissimo E benvenuti ad una nuova puntata di Cashmere, un podcast morbidissimo T'ho fregato oggi? Eh, ho fatto la cosa tipo neffa, cioè avevo in ritardo nell'audio Un piccolo delay Ho rovinato tutto, ho rovinato... Vabbè Eh, basta, vabbè, la puntata finisce qui Prendiamola con la filosofia con cui Amadeus sta gestendo il Festival Vero professionista Il più grande professionista in Italia in questo momento Non c'è nulla, non l'ho mai visto teso neanche per un attimo Forse Mario Draghi Amadeus in questo momento Sì, ma infatti secondo me lui può salvare veramente il paese Io inizierei proprio, visto che oggi parliamo di Sanremo Speciale, specialone di Sanremo Per questo registriamo con due giorni di ritardo Se Sanremo ha la team, noi questa settimana abbiamo la tech Le spazzole, ci sono state inviate queste spazzole che sono delle spazzole fatte in tech da mastri italiani Milanese And made in Italy, addirittura Mi sa che siamo in zona Lombardia Sì, sei sicuro? Sono abbastanza sicuro Può darsi Il tono con cui ci hanno scritto era quello di chissà fare business Lato nostro, lato cliente Esattamente E sono, tu sai qualcosa su queste spazzole? Sono fatte in tech Sono quindi in un materiale che normalmente viene usato per fare le barche O il miglior parquet del mondo Loro pensano talmente snob che lo usano per le spazzole E sono pare le spazzole che usa niente po' di meno che Anna Wintour La donna con l'acidità più alta sulla faccia della terra Io penso che se rutta Anna Wintour ti rovina la mattinata Se tu immergi un bullone dentro Anna Wintour il bullone si corrode Esattamente Ne abbiamo ricevuto un po', ne abbiamo regalate alcune alle nostre donne E una a Carmelo Avanzato Il quale saprà E alle nostre donne E alla nostra bellissima Carmelo Anna Wintour, capa di Vogue, capa dello stile del mondo E a proposito di stile, come potete vedere Noi oggi non vestiamo dei maglioni di Missoni in puro cashmere Vorremmo, ma caro Missoni Se ci ascolti dalla su, mandaci Noi siamo qui Esatto, ma abbiamo dei maglioni un po' osè Si può dire Un po' osè Io il mio lo definirei un maglione fiorato Sembro un cosplayer di un cantante indie Sembro anche un po' un cosplayer di Luigi Di Capo in alcune serate Mi permetto di dire Si, sembri Luigi Di Capo a casa Che ti accoglie però solo con quello addosso Nient'altro Ah si, boh, stasera voglio stare fresco Ah si, c'è sti cazzi Ma che bello sto maglione Io invece ne vesto un maglione un po' anni 70 Che secondo me inizia anni 80 Col capello lungo dietro E un po' chi davanti E un po' la Miguel Bosè Poteva essere considerato figo O un Nino Manfredi che gli hanno menato E' vero, è un po' da Nino Manfredi che fa la pubblicità del caffè A metà di Pinocchio su Rai 1 Esatto Bene, allora stiamo tutti vedendo il festival La Kermesse Tutti, tutti L'Auditel non dice la stessa cosa Ah beh ragazzi però Questa veramente è un fuoriscala Questa edizione Non si può giudicare con i canoni normali Anzi io veramente spezzo una lancia a favore dei conduttori Che penso stiano facendo un ottimo lavoro Perché veramente senza pubblico Lo sappiamo benissimo E' molto difficile E' molto difficile Certo, dice E' difficile fare una serata di stand up Con 20 persone anziché 100 Fare il più grande evento Il più grande spettacolo che ci sia in Italia In Italia e non solo Perché quali sono i paesi in cui è più cercato Sanremo nel mondo? Beh allora Sanremo va innanzitutto in Eurovisione A me mi mi angio sempre queste persone a Oslo Che stanno lì A vedere Io ho fenne scottere A Gaia Senna Rocca Bugo 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 Sei una merda Croazia, Albania e Svizzera Sono i tre paesi dove viene più cercato il festival all'estero Sono dati che io ho potuto imparare Grazie alla persona forse più raccomandata d'Italia in questo momento Cioè? La moglie di Amadeus che presenta il data center Giovanna Giovanna La sciurò Giovanna Una donna che quando muove il sedere Fa innamorare i grandi presentatori della tv italiana E' vero Quello è stato un momento di una bellezza incredibile Quando lei ha fatto la scossa Amadeus Il naso ha fatto Bellissimo Sì 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 Quello è un momento stupendo E lì è nato l'amore È nato l'amore, sì Però è così Un po' come oggi ci si conosce su Tinder E la gente si sposa Loro si sono conosciuti con la scossa E sono diventati una coppia meravigliosa La tensione quando sono tornati in camerino a fine registrazione Mi potete chiamare Giovanna per cortesia un secondo in camerino? Chiudiamo la porta No, e lui però l'ha chiesto di sposarla subito Beh, d'altronde è uno degli uomini più eleganti in assoluto in tutta Italia Appunto Quindi bellissimo momento E lei presenta il data center Raccomandata si scherza Perché un sacco di gente ha detto Ah, che raccomandata Beh, è la moglie di Amadeus Ma sì, voglio dire Poi insomma sta conducendo il pre-festival Non è che stia facendo proprio, voglio dire, TG1 Quindi insomma Nessuno ha mai detto che Bertelli, il marito di Miucia Prada, è raccomandato Perché gestisce il Bertellio E allora Uomini, donne, quando si lavora bene, si lavora bene, fine Esatto E tra l'altro la Croazia, Albania Vabbè, Svizzera lo capiamo Perché comunque c'è il cantone E dai, fammi vedere se c'è il Fausto Leali L'altra No Dall'Albania ci mandarono quella signora bionda che strillava Chi era quella Chi era quella persona Dai, vi ricordate? L'altra anno arriva una Ecco, sono contentissima di essere qui a Sanremo Sono cresciuta a Tirana E io da piccola vedevo Sanremo È stato il momento più bello della mia vita E ora Che in realtà tipo è una Era la persona più professionale mai vista Mai vista nella storia Perché in Albania, quando c'è la Nazionale Italiana Almeno una volta era più così E quando c'è Sanremo L'Albania si ferma Vero E si sentono proprio i Si sente il rumore Il rumore della neve che cade a terra Tirana Croazia Alcheta Esatto Lei avrebbe potuto condurre per 48 ore di Sanremo Senza mai fermarsi Amadeus E Amadeus si incazzò pure Sì, è vero Era una specie di Se tu a Millie Carlucci Tipo la imbottisci di benzedrina Praticamente Cioè, lei quella sera era talmente elettrica Che se ti avvicinavi col cellulare Non prendeva Cioè, era una specie Metteva delle radiazioni Per lei sia stato come Presentare gli Oscar Potrebbe essere per Tahir Anzi, i Grammy Quest'anno Grammy Awards Presentati da Tahir Hussein Hello everybody I'm very happy to be here First I want to thank my god The right one The boss of the Allah Records Io segnalerò questo video Io segnalerò questo video Ma come segnalerò questo video? Perché Tahir ha detto che potrebbe accusarmi di mobbing Ah, di mobbing? Sarebbe anche ora la 13.6 puntata Ha resistito fin troppo E io dico che beve sul lavoro Sul posto di lavoro E quindi E questo è snitching invece Ah, è certo Allora va bene L'Italia quando piace a noi I lati belli, i lati brutti Ma poi scusa Qualcuno deve mandare avanti il paese, no? Di certo non tu Non tu Cosa che meriti ti stai arrogando La locomotiva d'Italia Tutti questi bar chiusi Ah, quindi tu giustamente pensi per quello Certo I bar chiusi e le gioiellerie che non riescono proprio a vendere E comunque la lancia sempre Carmelo Io non sono mai il primo a dire No, lo so Sì, infatti il problema sociale in questo studio è Carmelo Avanzato Adesso Carmelo lo scateniamo come una tigre in Tiger King Carmelo Avanzato porta i problemi dell'alcolismo vicini ai livelli dell'Irlanda Questo studio sballa completamente la media italiana Cioè quest'area rossa sopra a casa di Carmelo Sembra di stare a Cork in Irlanda È solo lui da solo Esatto Ma il rock and roll è che non è il mio mestiere Come non è il tuo mestiere? Due Heineken fa avresti detto il rock and roll in modo chiaro Invece adesso c'è il rock and roll Il rock and roll Allora vabbè Il festival è il gradiente socioculturale del paese da sempre Io mi ricordo bellissimo Che poi cambia sempre Gli anni 80 li sappiamo Gli anni 80 erano Ciao 2020 Ciao 2020 e Sanremo anni 80 Con l'edizione peggiore è quella dei figli di Ah è vero madonna La famosa edizione dei figli di Ito Ignazzi La figlia del torrero Dominguin La figlia di Celentano La figlia di Celentano Cioè proprio un valore italiano Il familismo elevato a sistema culturale Di un notaio che si chiamava Ferrari Un notaio che stava lì No non c'era però mi faceva ridere Buonasera si salve col suo librone Noi siamo notai in Mantova 1647 Se c'è un funerale A Mantova C'è un nome Ferrari Poi passava i Sanremo anni 90 Che ci fu un pochino una flessione Salvo però la più grande edizione di tutti i tempi Cioè quella del 1995 Con Pippo Baudo Anna Falchi E Claudia Coll Che ai tempi Se faceva un occhiolino Spezzava i cristalli per tutto il paese Si crinavano le camere del festival A Murano non hanno lavorato per 5 giorni Perché erano presi con Claudia Coll Ricordiamo Così fan tutte E poi E poi Linda il brigadiere Parlava di Nino Manfredi Si entra negli anni 2000 Ci sono i festival berlusconiani Quindi pieno berlusconismo Quindi erano quelli con Simona Ventura e Tony Renis Mamma mia E fu il momento in cui Mediaset Smise di fare la concorrenza Alla Rai Perché E piazzò i suoi uomini Come hai detto tu Diciamo la cartina di Tornasole del paese Mediaset si abbandona completamente Una volta gli faceva concorrenza Provavano film con cose No no invece a un certo punto Hanno proprio mollato l'area Hanno detto ma perché è molto più comodo Se entriamo noi lì dentro E l'hanno fatto con La Medusa Numero 1 Eh certo Iniziando a mandare gli uomini Di Maria De Finite O meglio gli amici La SWAT di Maria De Filippi Che andava a vincere ogni anno Come si chiamava quello che ruba le magliette? Marco Carta Marco Carta È un artista italiano Al fiere della Sardegnità nel mondo Tu non puoi chiamarlo per cortesia Una persona che ruba le magliette Hai perfettamente ragione Due magliette da 1000 euro Quelle che Tahir usa per fare jogging Le usa per farsi il bidet Assolto 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 Perché l'amica si è Come Esatto Che l'amica si è presa tutta la colpa Ma tu non fare l'avvocato È stato assolto È stato assolto La verità processuale dice Ma infatti sto scherzando Parliamo dell'altro vincitore di Sanremo Sempre via amici Che era l'amico Fritz Con i capelli della Lady Oscar In tutti i luoghi Scano Valerio Scano Anche Valerio Scano Ha vinto a Sanremo In tutti i luoghi In tutti i luoghi In tutti i luoghi In tutti i luoghi È vero si vinse anche lui C'è un comico Che conosco bene Che ha fatto un bellissimo pezzo Parlando del fatto Che se tu lasci scegliere al popolo Il popolo manda a fare in culo Qualsiasi situazione possibile Immaginabile Quelli erano i tempi Della giuria popolare Che poi fu Mi riconosco in quelle parole Esatto Fu placata Eh sì fu placata chiaramente Perché se tu chiedi Agli italiani Chi volete votare Eugenio Finardi O Marco Carta Generalmente L'italiano Preferisce La seconda opzione E quindi Solo italiani E in Palestina Si è votato male Quando bisognava scegliere Diciamo Barabba o Gesù Eugenio Finardi Non c'è Allora Barabba E fu quel momento Che per contemperare il tutto Venne messo Il monolite Di Camilla Raznovic A decidere Chi poteva vincere O non vincere O Paola Maugeri Con la sua fastidiosissima Pronuncia inglese Di qualsiasi cosa Anche cose che non sono inglese Tipo The Tramezzino The Tramezzino He has We have Albano And Romina Paola Maugeri Che però Essendo di Cambridge No Lei è di Catania E E E' vero E' vero E qui ci fu un grande cambio Un grande momento Eh sì E poi si entra nei Sanremo Negli anni dieci Ricordo sempre Quello del governo tecnico Quindi primo governo Monti Con Rocco Papaleo Ne abbiamo già parlato E Gianni Morandi Insomma il mio Sanremo del cuore È quello lì Però appunto Ognuno ha un Sanremo straordinario Io ricordo poi dei momenti In cui Si vuole un po' Nobilitare la cultura Allora quando c'è il governo di sinistra Si fa per esempio Ci fu Fabio Fazio Che portò Dulbecco Premio Nobel E Letizia Casta Ero le sue due vallette Quell'anno Letizia Casta Un signore di 90 anni E Letizia Casta Che fu ai tempi Non criticata Oggi Diciamo Nel mondo dei social Qualcuno avrebbe da dire Sulla dentatura Di Letizia Casta Visto che hanno da dire Sulla mia E ai tempi Però siete belle uguale Luca Veramente dai Anzi era apprezzatissimo Quel suo sorriso Lei era veramente bellissimo Beh sì Lei non si discute su questo Però appunto Il ruolo delle vallette È sempre stato un po' scivoloso A Sanremo Perché si è fatto di tutto Per renderlo Comunque un festival Paritario Eccetera Però alla fine Comunque Si chiama valletta È bella Ma è anche intelligente Seguiteci Seguiteci in questa domanda Questa dimostrazione Che verrà fatta con Ever Zicova Una donna nata Penso in Repubblica Ceca Che dovrà fare Due più due Quattro E andiamo Però lì c'era Raimondo Che era uomo fascista Sì ma anche di gran classe No di gran classe Di gran cultura Però ecco quel momento lì Con la valletta Ma facciamola parlare Mi ricorda molto Quando appunto C'è Miss Olevano Romano Ma anche sai Anche le Miss Italia Più retrive Di tanti anni fa C'era adesso Però parliamo con le Miss E gli si chiedeva Tipo non so Cosa pensavano Delle guerre La pace nel mondo E la capitale della Bulgaria E lì si vedeva Che comunque queste ragazze Queste ragazze Erano promettenti È certo Che un ruolo scivoloso Lo è stato anche Quando poi i valletti Erano maschi E beh sì Quando Gabriele Garco È andato E si è presentato sul palco Tutto il tempo Dice ok Non devo far trasparire Qual è la mia scelta Di genere Sali sul palco Volevo salutare la mamma Ciao mamma È lì È davvero successa Una cosa simile A te è successa una cosa simile? No questa cosa È davvero successa Certo che è successa Ragazzi sono veramente contento Di avere 22 anni E di non sapere un cazzo Tutta questa roba Tu non sai cosa ti sei perso Di Marco Carta Non sai cosa ti sei perso Di quell'altro di amici Sono proprio Ringrazio Cristo Di non ricordare Le loro canzoni Se la Trap è il nazismo Quella lì è stata La Repubblica del Weimar Capito? Chiaro Una ha permesso l'altra Va bene? No quello fu un momento Perché per costruire Devi sempre prima demolire Sì per costruire Il regime più pericoloso Della storia dell'umanità La Trap La Trap Si è salvata L'ha detta sul gong Si è salvata Sig Isle Con l'autotune Che cosa? I nazisti Con l'autotune Che merda L'Uliss Whittler Che fa Seguite da Mussolini A Piazza Venezia Dalle Alpi La parola è una sola Stiamo facendo una cosa Un pochino da Com'è che ci chiamate voi? Boomer No 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 Mi piace Hitler con l'autotune Mi piace Va bene Questa la puoi fare È un'idea comica Che non so in quanti programmi Se gli fosse venuta Per esempio anche a Sanremo L'ho anche già fatta Lo scorso anno a Sanremo Hitler con l'autotune No non era proprio questo Dopo il caffè Borbone Abbiamo Hitler con l'autotune Chi lo faceva? Lo faceva se non sbaglio Rocco Papaleo Lo fece proprio di quello Non si capiva niente Negli anni dieci Poi Sanremo esplode Grazie ai social Cioè Il rituale di vedere Sanremo Con Di fare il gruppo d'ascolto In realtà c'è sempre stato Cioè a me I miei genitori Già mi dicevano Che all'epoca Da ragazzini Vedevano Sanremo Per dire Madonna che merda E fa sia di Sanremo Quindi è una cosa Che è sempre esistita Però Con gli anni dieci È esplosa Perché è la cosa Del Dei social Dei tweetare Che schifo Come cazzo è vestito Così è una roba Che esplosa Quindi noi Cioè Viene fatto Sanremo Perché venga criticato Esatto Fra tante persone Per dire Quanto mi fai schifo Quanto è orribile Quello che stai facendo Quanto sei vestita male Quanto sei grassa Quanto sei brutto Quanto fai Per l'inventore di twitter Di quelli che scrivono La canzone a Natale Certo Quando poi arriva Mariah Cash Lui arriva Quando c'è lì Jack Dorsey A febbraio Si sfrega le mani Adesso ci fa Pavi fatturato Forza Dai che ho questi Fingui a fatturare Un saluto agli amici Il milanese Imbruttito Li salutiamo E allora Vabbè L'abbiamo visto tutti quanti Questo Sanremo Tahir Facci un po' Il punto di Paolo Pagliaro Il punto di Tahir Hussein Come ha reagito Il mondo trap A questo Sanremo Cioè nella scena trap Sanremo Come viene seguito Viene visto come un'occasione Come un'opportunità Cioè come se non fai più i soldi Devi andare a fare Sanremo Ah quindi sei un po' Diciamo Se cade in disgrazia Vai a fare Sanremo Sì tra l'altro È che sta là Esatto Con i suoi milioni Sì sì è vero Fedez l'ha detto Che tempo fa L'ha detto Se vai a Sanremo È perché non hai più Niente da dire Non ha detto E come mai lui quest'anno è andato Lui è andato Per i lavoratori Dello spettacolo Per i lavoratori Dello spettacolo E penso anche per provare La vera tensione Perché comunque è stato divertente È stato Quando lui ha pianto Alla fine dell'edizione Ti ha dato idea Di quanto sia difficile Cantare Su quel palco Anche se vuoto Comunque è proprio difficile Cantare con l'orchestra È difficile cantare E pare che quel palco Sia particolarmente difficile Non so come mai A prescindere dalla tensione Pare sia proprio un luogo Nel quale è difficile esibirsi Secondo me sia che tu vada a carico Sia che tu vada a scarico Sia che tu la sappia fare perfetta Comunque è il momento In cui tutto il tuo paese Ti sta guardando Ti sta vedendo per criticarti Perché c'è un libore Intorno a Sanremo Aspetta mi volevo ricollegare Ora che mi è venuto in mente Non so se voi avete visto Io ovviamente l'ho vista Anni dopo Emine e Massarremo Certo Ma certo Ovviamente Ovviamente Il placebo Il placebo che spacca Gli strumenti E si andò vicini All'interrogazione parlamentare Cioè all'epoca Il ministro Lunardi Noi vogliamo sapere Questo Brian Molko Come mai Ha rotto La strato La telecaster Sull'amplificatore Come mai Con quelle unghie dipinte Non so se si può dire Insomma Che fece Se si drogano Anche quelli lì Secondo me Si erano fatti qualche cannetta Non voglio dirlo Eminem Arrivò sul palco di Sanremo Preceduto Da una sapida gag Nella quale c'erano Non ricordo se era proprio Raffaella Carrà Era Raffaella Carrà Era Raffaella Carrà Fuori dal palco Fuori dal camerino di Eminem E c'era una sega elettrica Che ruppe questa porta In cartongesso Chiaramente Che era stata E allora Oh mi sta arrivando Eminem Sta arrivando Eminem Eminem arriva sul palco Si spara questo playback Clamoroso Ma chi era 400k e se ne va Esatto 400k o 400ml 400 milioni di lire All'epoca sicuramente Chissà l'autore Che ha avuto l'idea Di questa gag Ah no Ah due a due Ah quindi già Ma a proposito di livore A proposito di rabbia A proposito di Grande professionalità Nel giudicare Sentite l'audio Come è caldo qui Non è caldo per un caso È caldo perché Dietro questo podcast C'è un uomo straordinario E se c'è un momento In cui lui Ci dà dentro È il Sanremo Carmelo avanzato Il tuo punto Allora Io volevo vederlo Solo perché sapevo Che mi avreste fatto Questa domanda Ma facendo zapping Sono rimasto su Spongebob Quindi me lo son perso Sì Però se volete Vi posso fare un po' di storia Ad esempio Eminem Che è stato pagato troppo Cioè Storicamente è sempre successo Cioè Louis Armstrong Che fu interrotto Mentre suonava Perché credeva Di dover suonare 45 minuti E alla fine disse Ma mi avete pagato troppo Per fare una canzone Ve li ridò Caruccio Louis Armstrong Veramente Sì sì È vero È bello Perché secondo me È diventata la cosa Meno dedicata Alla musica che esiste È una cosa Dedicata alla tv E chi ascolta Chi guarda la tv Quindi secondo te Sanremo non c'entra nulla Con la musica Non è espressione Delle eccellenze musicali Di questo paese Assolutamente No In realtà era nato Per quello Noi facevamo D'avanguardia Per tutta l'Europa E il mondo E proprio perché Non seguivamo Questi meccanismi Invece Ma non c'è un brano Che ti piace a te In questa edizione Per esempio Secondo me I Mane Skin Fanno rock Fatto molto bene Carmelo In realtà sono contento Che ci siano Perché Riportano le chitarre Che invece Se ci avete fatto caso Sono sparite Sì totalmente E quindi Sono contento Che esistano E che portino ancora Un po' di rock Sì Gigi Hallin Fatti a gruppo Della Un piccolo appunto Che secondo me è importante Che questo è il festival Della canzone Si chiama Il sottotitolo Il festival della canzone Non dei cantanti Non degli artisti E secondo me Questa cosa Se la sono dimenticata Questa è sottile Cioè Che cosa intendi Spiegaci meglio Ad esempio Negli anni precedenti Ma parlo di Trenta Quarant'anni fa La stessa canzone Veniva suonata Nelle giornate successive Da altri artisti Ma va Sì sì Anche che ne so Vi faccio l'esempio più grande È un'avventura nel 69 Battisti Lo portò in coppia Con Wilson Pickett Ti faccio l'esempio Perché bisognava Sottolineare Quanto è forte la canzone Non quanto è forte L'artista Che suona Mentre ieri hanno fatto Quindi per esempio Come per esempio Quella di Aiello Un tecnico come te Un tecnico come te Cosa ha detto Sesso e buprofene Secondo me La tirata cover Non ha proprio senso No no Questa era Non era una cover Sto cercando di scappare Dalla domanda Ti dico Io sono È da martedì Che la mattina Quando mi alzo Cerco Fra i tag su Instagram Perché non ho Twitter Sesso e buprofene Per sentirlo Prima di alzarmi Perché No io ho visto Delle cose pregevoli Veramente dei No meme meravigliosi C'è stato un accostamento Fra lui E Pannofino Pezzo di merda Sono del piano romano Io ne ero per culo Che è la cosa che mi ha fatto più ridere Quello è stato un bel momento Il discorso è Tu magari Niente contro Aiello Che non conosco A parte aver scandalizzato Mia madre Con la sua canzone Quest'estate Quando racconta di questo Essere Non si sa se maschio o femmina Che sale a casa di lui E senza Hai cominciato Eravamo sul divano E tu hai cominciato Con la mano Canta Io ero in macchina Con mia madre Ma cos'è? Ma di cosa sta parlando? Penso delle spazzole tech Del lavaggio a mano Ma certo Esatto Stava lavando una sciarpa Non sapeva bene Se mettere sintetici 50 gradi Ha detto A sto punto Vado un bel catino Con la lavanda No ragazzi Però Io sapevo Che per cantare Non bisogna stonare Ma mi sembra Che questo concetto Sia un pochino saltato Nell'ultima edizione Cioè Veramente Sette su dieci stonano Ma steccano in un modo E dici Ragazzi Cantana è il vostro lavoro Cioè l'unica cosa Che viene richiesta Però è vero Che non essendo più abituati Magari a fare Un certo tipo di live Tra lasciando quest'anno Però in generale Andare sul live Nel posto X Posto Y Fare un sacco di serate Imparare proprio Il mestiere Non so Lo dico da ultra profano Però immagino che sia Sto girando solo intorno All'autotune Tahir Perché Quello è successo Io non ho capito Avete voluto L'autotune No io sapevo Che a Sanremo Non ci potevano essere Doppie autotune Roba Perché c'è l'orchestra Eh no certo Se no metti la base Arriva il DJ No no però la gente L'autotunano eh A Sanremo Ci so dei momenti di autotune Mi ricordo L'altro anno che era Era Ricky C'era un momento Con l'autotune di Ricky Scuderia Facchinetti Eh C'era Ricky C'era Ricky C'era Ricky E scusa però Grande protagonista No ma la perde tutto senso Eh c'è Cioè se puoi mettere L'autotune Perché c'è l'orchestra Ma tu Ciumbia Fasma Fasma In questa edizione Tutti Fasma è talmente L'autotune Che nella serata del cover Il tecnico ha detto No no Non mi va A spegnere il microfono A sto stronzo C'è anche una roba Che si chiama Half Tune Ovvero dove Non è l'autotune Su tutta la voce Ma lo mettono tipo Solo sulle doppie O una roba simile Che è quello di Pedezza Credo Che è quello di Ah ok Ce l'hanno tutti Ti immagini se nella cominci Orietta Berti ha detto di no Chi? Orietta Berti no Orietta Berti ha rivendicato No infatti Ragazzi infatti Chi non ha steccato Sono stati i grandi vecchi Cioè Orietta Berti No anche Emma Emma non ha steccato Perché Emma Analisa 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 Antreno Però c'è un dubbio Sullo playback Chi? La Michelina non stecca Chi? La Michelina No la Michelina non stecca La Michelina ha guardato L'amico Federico Durante la sua strofa Con lo sguardo Con cui tu guardi Non saprei Tua moglie Su un ponte tibetano Che sta per cadere Con in braccio I figli E una valigia piena di droga Che dovete portare Al di là del confine Per salvare tutti E lei lì Però alla fine ce l'ha fatta Alla fine ce l'ha fatta Andata bene Ma comunque le lacrime Alla fine del pezzo Oh ma immaginiamoci pure Quanto sia emozionante Per un artista Cantare il momento del jazz Cazzo ci siamo emozionati Lo dici a me Che ho cantato Nel blu dipinto di blu Ogni spot di Amazon Cioè Fedez ha fatto San Siro Non è che è uscito Che cantava in cameretta Anche Salvatore Fresi Ha fatto San Siro Gocando nell'Inter Però andate a me Non avete capito Cosa sto dicendo È gente che non canta Da mesi e mesi e mesi Quindi comunque Può essere la prima volta Che si rimettono a cantare Di fronte a tante persone Che li vedono C'è un altro discorso Secondo me Si è steccato molto Anche perché non c'era Il pubblico in studio Quindi secondo me C'era meno tensione Eh la tensione Era più bassa Ti immagini se ci fosse L'autotune nella comicità Ah Tu fai un pezzo In un certo punto Stai dicendo una cosa banalissima Che non fa ridere Però subentra la voce Tipo di Stefano Rapone Che ti mette una battuta dentro E poi riparte la grande E fai una battuta Di Beppe Braida Nel 2002 Carmelo Per me l'assenza di pubblico Invece non incide Perché quando un artista Decide di fare questo percorso Anche quando il suo mondo È più piccolo Quando fa le prove Immagina di avere davanti Un universo di persone Quindi è preparato sia Ad avere San Siro davanti Che quelli del pub Vabbè Però dai Non puoi negare Che il fatto che fossero Di fronte a un pubblico Di sedie vuote È vero anche il discorso Non hai la stessa Botta Aspetta però Un pubblico di sedie vuote Contro un pubblico Di vecchi morti No però applaudono I vecchi morti Comunque applaudono Allora parliamo Dei siparietti Parliamo dei siparietti No ma c'hai la tensione C'hai il pubblico davanti Dai ma cioè Come fare veramente Una serata senza pubblico Ci sono stati molti momenti In cui il pubblico È mancato Al di là Dei momenti Ovviamente musicali Quelli dei siparietti comici Perché quest'anno Amadeus ha scelto Un valletto Di grandissimo spessore Come Zlatan Ibrahimovic Che è sicuramente Un grande calciatore È anche simpatico Perché è simpatico Legge le battute Non capisce Se sono scritte In modo comico O no È un grande Però ci sono dei momenti In cui l'assenza di pubblico Rompe il momento comico E lui sembra Uno svedese Svedese Che parla Che parla In Legge Da lontano Delle cose Parlando con una persona Che si chiede Ma forse ho sbagliato Diciamo che questo vassoio Di fronte a noi È dei tempi comici Migliori di Zlatan A me ha fatto molto ridere Che cosa Vi posso dire Non so se lo sapete Mentre Ibrahimovic Stava a Sanremo Lebron Gli ha scritto Ibrahimovic Sei un pagliaccio Stai zitto So tutto Ma perché Perché Ibra ha detto Ibra ha detto Che i grandi atleti La casa sabbaudia L'estate Se l'ha presa Ibrahimovic Prima di Sì perché la dividono Esatto Perché Ibra ha detto Che Lebron Dovrebbe occuparsi Di giocare a basket E non di fare politica I grandi atleti Dovrebbero fare questo E Lebron ha detto Ma tu parlavi di razzismo Tempo fa Vabbè Polemichette Fra gente che ha miliardi Di fami Cioè Non fare il pagliaccio Se è un pagliaccio Stava a Sanremo A me quello che ha fatto ridere Di Zlatan Era che lui Comunque Svedese Cittadino Svedese Lui scendeva le scale E aveva la musica Balkan Come se ci fosse uno Nella metro B Flaminio Che con la visarmonica Fa così Secondo te quello è Tipica musica Ma quello è Razzismo O cultural appropriation È totale razzismo Cioè lui scendeva le scale E diceva Ma Deus Questo è il mio festival Deve andare via Chi ha messo la musica Zegana Che fra i vari autori Ha scelto di insultare La mia famiglia Io mi ero immaginato Una serie di Cioè la volta dopo Che scendeva le scale In fondo C'era un carrello Un passeggino Della inglesina Piano di rame Capito Guarda nessuno se la prende Nessuno se la prende Perché è Zlatan Ibrahimov Poi metteva una metropolitana Che si fermava Una roulotte Arrivava a Custurizza Gatto nero Gatto bianco Non capisco questa facile ironia Sulle mie origini Però grande lui Cioè va un dritto Un panter Sì simpatico Diciamo Capito che non hai Grande grande amore A proposito di calcio Ieri un momento Che mi ha scaldato il cuore Monica Guerritore Dopo il suo monologo Ha detto a Fiorello Abbiamo vinto 2 a 1 A proposito dell'Inter L'ha letto come L'avrebbe detto la mia mamma La differenza È che mia mamma È ancora più bella Ed è stato bellissimo Perché ci tenevano Amadeus ha messo Lo smoking rosso nero Ieri qualcuno dice Per scaramanzia La fresca Ma davvero Amadeus è veramente Un tifoso dell'Inter Di quelli seri Proprio super tifoso E per questo Grande rispetto Voglio vedere Quando Giletti Presenterà il festival Ecco Le vittime Nessuno sta parlando Le vittime Vaccinopoli No ma c'è il codice 08 C'è Fasmag Orietta Berti A terrazza sentimento Come sono state Quelle ore Mentre sei rimasta bloccata Fra il cancello E l'ascensore Beh ma io ero convinta Di essere alla coin Ho citofonato E mi sono trovata In mezzo a questi Bei ragazzi Ma ho detto Ma cosa succede? Orietta Quei vassoi Cosa avevano sopra? Eh ma non so Io sono andata Verso la spigola Che a me piace sempre E non sbagli mai Orietta non sbaglia mai Eh no Orietta grande infatti Dai grande alla fine Dai Aveva quelle capesante Sul seno Allora Bentornati al podcast Della censura del Vaticano Abbiamo appena tagliato Un pezzo Perché Edo me l'ha chiesto Va bene L'importante Mantenere l'amicizia Il sistema Io come precedente Della comunità episcopale italiana Beviamoci su Torniamo su questo gioco Allora Ti dico il nome dell'artista E tu mi dici se sì o no E subito dopo ti dico Io se sì o no Ok Pronti Fulminacci Sì No Herman Meta No No Maneskin Sì Sì Bugo Sì No Max Gazze Sì Sì Fedez e Michelin Sì Sì Non l'ho sentito Chi è? Edno No Non ho sentito il pezzo di Random Random è quel ragazzo che Si può dire con la faccia da rapinatore Giovan e giovane Non siamo sicuri che si possa dire Però vabbè Con la faccia Con la faccia da rapinatore Random non mi ricordo Non ho idea di chi Carmelo chi era? Da rapinatore in senso buono Si Carmelo Random non l'hai sentito il pezzo di Random? No Voi l'avete sentito il pezzo di Random? No Allora Ho sentito il duetto Solo il duetto L'ho visto il primo festival Con la Giovanna Come si è comportato bene? Chi l'ha fatto il duetto? Chi? Random Ragazzi Sì Random ha fatto con i decors Ah Allora Let me share Clear and loud No No Game on Sì Sì dai Noemi Sì Sì dai Noemi Extra liscio fit Tre allegri ragazzi morti Purtroppo non l'ho sentita ancora Sì dai Hanno fatto quella cosa un po' da festa Io poi sono fan dei tre allegri ragazzi morti Quindi per me sì dai Arisa No No Renga No No Irama Non l'ho sentita neanche lui Ma si poteva sentire Poi alla fine hanno fatto vedere il video delle prove Sassa Prova 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 Oh Mi ha dato pure super Super alto Irama Il classico Ottimo Willy Peyote Eh sì Sì dai Aiello Sì Guarda Regà dai Cioè solo per i meme se mi hai detto sì Sì Rappresentante di lista Sì Bravissima Bravissima Mazzagato benissimo Brava Con la pesce di Martino Sì Sì Comacose Sì Comacose Sì Sì Gaia No No Sono d'accordo Stato sociale Sì E Madame 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 Super sì Ma perché non hai letto Ah no è vero aspetta No no Ho letto Mi sa che non ho saltato Ho saltato qualcuno Madame Perché è davvero professionista Lì hai scritto Guardala guardala Era qui Era qui Madame Era nella prima pagina E c'è un nome però anche che hai saltato Che è Achille Lauro Lo diciamo in coro Vediamo se siamo d'accordo Allora no io vorrei fare proprio tutta una discussione su Achille Lauro Ok scusami Volevo solo dire Prima di te Sì o no No Allora Achille Lauro Noi abbiamo capito la diciamo provocatorietà dei travestimenti Però questa cosa è andata un po' troppo oltre Adesso a me Achille Lauro mi ricorda un personaggio di Fabio De Luigi a mai dire gol Cioè ogni volta che arriva sul palco Mi immagino la Jalapas Lauro Cosa sta facendo? Cos'è quella treccia? Lauro Perché è vestito come quello a Piazza Navona che chiede due euro per la foto? Lauro Ma a me veramente sembrava quello che fa il trucco con la sedia Cioè nel senso vabbè per carità Tenti a portafoghi Tenti a portafoghi Grande battuta Non ho capito bene il Cioè nel senso va bene il travestimento bellissimo Però poi certo tutto si perde un po' la sorpresa di quella cosa In questo momento Achille Lauro è Moravia per gli italiani Quel livello di intellettuale, quel livello di salotti Gli è stata conferita quella Non si sa da chi ma gli è stato dato questo superpotente Lui non canta fa dei quadri Cosa cazzo vuol dire? Gucci gli ha dato questo titolo credo Farmelo Secondo me avrebbe potuto stupire subito in qualsiasi modo Proprio perché tutti si aspettavano che stupisse Se veniva con la tuta dell'Adidas o con la salopetta avrebbe stupito Se si fosse vestito da Vincenzo Muccioli avrebbe stupito O da D'Ail Sai che figata Il cosplay cioè il travestimento italiano era da Vincenzo Muccioli Fighissimo Beh sì era una bella Tipo 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 Vabbè ma noi d'altronde facciamo i comici e gli autori E lui fa il filosofo e il letterato A me sembra un po' stucca si è detto perfettamente Sembra un pezzo comico ormai A un certo punto Un po' sì ma chissà Poi ora ci sono altri due travestimenti Perché c'è stasera e domani Cioè a un certo punto Oh È tanto Cioè a che sceglierà adesso? Non so Boh Guarda Ho letto ieri sul foglio Lei dice ha fatto un omaggio a Mina ma sembrava Milva Non si poteva dire meglio Si poteva dire meglio no esatto Posso dire bravo Lauro però torna a fare Volevo prendere 5 grammi e ho preso 30 kg La voce della verità I giovani sono la voce della verità Ma questo era body shaming o? No no Vabbè era una canzone di Achille Lauro Come si chiamava quella canzone Tahir? Era Don con Marra Ok Prima di parlare del Sanremo come lo vorremmo Perché ogni anno ci si lamenta e si dice io avremmo dovuto farlo così Cos'ha di quella Volevo chiederti Secca la tua migliore esibizione di tutti i tempi a Sanremo È tosta è questa Di tutti i tempi La tua preferita che se la rivedi ti emozioni Beh io ricordo un grande sono solo parole di Noemi Che veramente spaccò tutto E poi Per cuore dolce Sono sentimentale No lei fu straordinaria e poi chi altro? Tu? Gerardina Trovato con Non ho più la mia città del 1993 Perché io che sono milanese puro Se sento un meridionale lamentarsi del fatto Che non può più stare nella sua città come Edoardo Bennato in Campi Flegrei Io mi si spezza il cuore Gerardina Trovato Sì che ha fatto una fine un po' particolare Cioè diciamo non ha più suonato Però io se sento quella canzone mi si spezza il cuore Che anno era scusa? 93 Ok 93 Mi hai fatto sovvenire la balalaica Enrico Ruggeri Che se la senti la balalaica La balalaica Andando dall'andrologo A proposito di tavoli che si rovesciano Si viene poggiata la ciolla Devo mostrarle questa mio glande Il problema che ho sul glande No mi sovviene quella Mattia Bazzar Poi c'erano quegli anni di Sanremo In cui c'erano quegli artisti Mattia Bazzar sono i professionisti di Sanremo E Avion Travel Mattia Bazzar, Gatto Panceri Gatto Panceri Troppo spesso dimenticato Michele Zarrillo e Eugenio Finardi Sono la pentecoste dei Sanremo anni 90 Tahir la tua prestazione è top a Sanremo di tutti i tempi Hai visto lui, hai visto lei, hai visto loro Però hai detto Nessuna Cioè solo quella di ultimo Perché comunque un amico Ah è vero Pure lui fu bravo però Arrivare su quel patto Però ragazzi affermi Mahmood obiettivamente fu meglio dell'ultimo No dai dai Non mi espongo Non mi posso esporre No secondo me Mahmood fu più figo Vabbè il pezzo era più figo Bravissimo ultimo Però in effetti Spezziamo la lancia anche in favore di Charlie Charles Che è venuto a Sanremo Ha educato l'ascolto dell'Italia Esatto Appunto Perché tanto a parlare di questo trapping Però c'è anche gente molto brava che suona C'è gente molto brava dietro Comunque si è inventato un sound Si può dire questo? Posso dirlo? Carmelo la più grande prestazione So che pescherai Sì pesco e vi consiglio di vederla C'è Lentano nel 68 che cerca di rovinare la canzone di Don Baki Perché è in gara con due canzoni Cioè Pensati La performance si chiama Canzone Cioè che cosa ha fatto? Aveva litigato con Don Baki che gli scriveva questo brano E C'è Lentano voleva che ci fosse solo un brano di Don Baki al festival Quindi lui la fa in modo sciatto Cerca di rovinarla Invece rendendola una cosa divertentissima secondo me Vabbè un grande Vabbè Roba d'altri tempi Per quanto ragazzi Buco e Morgan l'altro anno Dai Se ne è parlato fin troppo Però c'è una roba enorme Cioè fare una cosa del genere Ma che succede? Che succede? Dai nel momento Sì bello E ora un'altra domanda Perdonami se te la chiedo col cuore Prego Le tue due vallette preferite Le mie due migliori vallette Secondo me furono proprio Letizia Castà e Dulbecco Il premio Nobel Eva Erzigova e Veronica Pivetti Non abbiamo quelle cose no Perché non ci va di farlo Con lo scaracetto Ci ricordiamo le vallette No 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 Però ti ho detto le mie Perché immagino quando Veronica Pivetti hanno detto Tu sarai la brava Questo è vero Questo è vero Bei tempi Bei tempi Gli anni 90 In cui si scherzava sulle donne Sì In cui si potevano fare delle cose veramente Comunque l'anno scorso Avverranti Con la tranquillità L'anno scorso la polemica Che è stata fatta sulle vallette Di Amadeus Ha fatto sì Che quest'anno Diciamo la figura della donna Co-conduttrice Conduttrice Adesso tu hai rubato la scena Parliamo un secondo Di Elodie Sì Che ha fatto un bellissimo discorso Un bellissimo show Un bellissimo discorso Un bellissimo mashup Devo dire che Secondo me Il vincitrice del festival è lei Lo dico subito Sì Più di Matilda De Angelis Più di Matilda De Angelis Lo ammetto Ma forse meno di Barbara Palumbelli Che stasera Andrà con le cioceri fuori Che bello Con scritto I belong to Rutelli I belong to L'ultima spiaggia Non vedo l'ora Non vedo l'ora Madonna Chissà se quell'illuminazione A Sanremo Riuscirà Come da noi Non fallirà Nel mostrerà C'è una Barbara Forse diversa Filtro Rete 4 Anche a Sanremo No aspetta Uno dei miei momenti Preferiti del festival È il prologo Momento prologo Certo che Momento prologo Tu immagina La writing room Di Sanremo Fra gli autori In cui hanno tantissime cose Da mettere in scaletta E poi dicono Prologo dai Poi lo sistemiamo poi E ogni anno Prologo Arriva Arriva un panzone La writing room Vorrei ricordare a tutti Il momento Gian Liguria Per cortesia Sì sì Guarda Assolutamente Assolutamente Ma che cazzo è questo Finché non arriva Che la prologo La devi mettere La mettono sempre Un istante prima Della dichiarazione Del vincitore Per cui viene chiamato Questo assessore Sanremo È il momento mio preferito Sempre di Normalmente centrodestra Sì Sempre di centrodestra Siamo felici Di aver ospitato Festival Però volevamo dire Che questi immigrati Non ce li volevamo più Allora grazie Grazie Veramente Per questa cosa Si fa sempre la sottile C'è quella minaccia Comunque c'è il momento Del clientelismo È stato Comunque ci auguriamo Che quest'anno L'Europa Sblocchi 900 miliardi Per fare il Mike Buongiorno International Airport Di Sanremo Che renderà Il ponente Ligure Un hub Internazionale A caso due busti Di Hitler E una baionetta Che era di Goebbels Siamo felici Che abbiamo fatto Un festival Fra tutti i bianchi La canzone C'è un colore solo Capito Lewis Armstrong Posso fare Complimenti alle vallette Le ho molestate In camerino Prima Bravissime Eh sì Quello è un momento Straordinario Quello è molto divertente Poi negli anni 90 Faccevano Adesso parliamo Dei fiori Di Sanremo Quella cosa Durava tantissimo Una cosa infinita Con il conduttore Che cerca anche Di dire Sì sì Vediamo il conduttore Ragazzi Sti cazzi Sta arrivando Vilma Deve essere difficilissimo A presentare Deve essere difficilissimo Davvero Difficilissimo Ma anche soltanto Per uscire del codice 08 C'è tutte quante Quelle robe istituzionali Non sbagliare le parole In italiano Così tante volte Deve credere Di Mannulli Baddingo Gattarrodos Dirige il maestro Ma perché i maestri Hanno questi nomi di merda Orange Sì Finfullas Dirige il maestro Pinco Pallengolos Perché un tempo Infatti negli anni 70 Era sì Di De Brontis Saverietti Molluciani E poi invece adesso Iniziano a essere 5 nomi Tipo da figlio di Elon Musk Cioè il più difficile Cioè il più difficile Di Dardust Strigzniak Di 948 Però se E Bruzzufoni Perché poi c'è sempre un italiano Se frequenti E hai frequentato La figlia di uno degli autori Delle canzoni Nel anni 70 Lei dice Ti va di venire Nel Dammuso Che ci abbiamo A Pantelleria Sono 800.000 metri quadri Scriviamo lì la canzone Sì Mio padre scriveva Per Anna Oxa E quindi No poi l'inverno Andiamo a Cortina Noi abbiamo Cortina Nel senso È nostra Sì Che è proprio nostra Guarda non importa Ti è caduto un punto Si hai dalla tazza Per cortesia Vabbè tanto Ce n'ho tanti Non so più Dove mettergli Sti punti si hai Guarda ti giuro Fai conto che ogni volta Che esce il peperone Di Edoardo Vianello Alla radio Ma non esce mai Quella canzone No no esce La famosi comunque Mi passi il caviale Senti invece Allora Immaginiamoci Se Sanremo Le prossime edizioni Fossero condotte da Vittorio Feltri Conduttore Vallette 18 Meteorine Oppure Tutto il cast Di Donna Avventura Un programma Che non so se conosci Donna Avventura Donna Avventura Sottotitolo Fregne in viaggio Sì Punto E non toccate Donna Avventura Un programma Dove il product placement È l'unico programma Di Mediaset Dove il product placement Sta sopra Alla figa È vero È vero Cioè Viene usato Vengono usate Dei brand Per vendere delle donne Non il contrario Sì è vero E non il contrario È bellissimo Che loro vanno in giro Per il mondo Fingendo di fare cose Che non stanno facendo mai Sì esatto che non stanno facendo Costrette in shorts bianchi Che se appena appena una Adesso Però se appena una al ciclo Io non voglio immaginare cosa sia Poi sono in quattro amiche Quindi magari gli viene pure tutto insieme Sulla barca a stromboli Sono lì che danno informazioni a caso su stromboli E sui vulcani E poi sono costrette a mangiare la granitina Con il gobo Della parità sessuale Certo Oggi ci troviamo alle cascate delle marmore E faremo rafting Forza ragazze Poi sono in green screen Capito che stanno lì con un paiolo Chiaramente in un studio a Cologno E dove lo stai mettendo il paiolo? Non lì Che buono questo cibo L'abbiamo cucinato noi Indietro la signora delle pulizie Fatta tutto Posso andare? Da un'avventura Ti guido io Ragazze Sale sopra Secondo me questa sì Ma neanche guidano in donna avventura Ho visto che una volta in Danimarca Andavano sul monte più alto da Danimarca Che è alto tipo 180 metri È un sacchetto di spazzatura È un niente È nulla E allora siamo saliti qui in cima Che bello Adesso andiamo a spogliarci Mentre mangiamo del salmone È un programma straordinario È bellissimo Proprio è la visione di Mediaset L'ultima grande Mediaset Sì è l'ultima grande Mediaset Il deserto dei tartari Sì è un viaggio in salsa Mediaset Bellissimo Bellissimo Grande che l'hai tirato fuori Andrea Roncato Presenta Sanremo Vallette Brigitte Nielsen E è la Weber Oggi Bellissimo Pensate in meraviglia Bellissimo Lui andrebbe Appena collegato All'inizio della puntata Con una Aureola di cocaina Qua Ho dovuto far Perché mai Ho dovuto farlo Bello forte Questo festival Su richiamone Con la proloco Qui Belle Belle Selerone Brigitte Nielsen Secondo me è ancora presentabile L'ho rivista ultimamente In Rocky 4 Fa la fidanzata di Ivan Drago Ah è vero Fa la fidanzata Molto espressiva di Ivan Drago Quei campi e contro campi Sui lei Ma comunque Il decublo Sembrava Mary Streep Al confronto di Ivan Drago Lei ebbe una storia Con una Silvester Stallone Forse vuol dire Si è sposata Con Silvester Stallone Ah lei fu Donna Stallone Non lo sapevo La signora Stallone Per un anno Sì 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 Lui penso che fosse alto Le arrivava All'ombelino Le arrivava ai seni Ai seni Sì No bellissima idea questa Di Roncato Ovviamente sto scherzando Ci mancherà bene Tra l'altro l'ha detto In un'intervista Che per anni ha abusato Che ebbe questo problema Di santità Certo Esatto Greggio Iacchetti Greggio Iacchetti Fanno le vallette però Vallette Melissa Satta E Maddalena Corvaglia Per oggi Ugualmente Cioè tipo È un'edizione Striscia la notizia Melissa Satta Still A parte che è dell'86 No infatti volevo dire Elisabetta Canali Sto sbagliato Elisabetta Canali Se è Maddalena Corvaglia Per oggi Elisabetta Canali Stop class Anche adesso Parole forti Vabbè Sì sì Veramente 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 Ancora on top Sì vero Di Mediaset Forse sarebbe Bellissimo avere Ezio Greggio Iacchetti Che presentano Sanremo Lo renderebbero Come lo renderebbero Come te rimane Eh come lo renderebbero Secondo me ci sarebbe Ah 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 Cioè si torna dalla canzone E c'è comunque Ah 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 Non devi ridere Non è una battuta No ma commentano anche Se una canzone è andata Non troppo bene Beh beh Insomma Oh 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 Ma hai sentito qua La borsa di una donna Noemi Cos'è che ha messo dentro la borsa Ma stia zitto Nella borsa non lo so Ma nelle mutande Ah 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 Moreno Morello Che fai belli Il comune di Sanremo Ad aceso Che è questa No non so che cosa è questa Cruciani e Parenzo Conduttori Vallette due mistress Di Solbiate e Olona Che prima che loro annuncino Ogni cantante Gli danno un calcio Nelle palle E Parenzo commenta Cose da pazzi Cose da pazzi Io me lo immagino così Mamma mia Quello forse non lo guarderei Beh Però immaginati comunque C'è Noemi C'è Noemi Però Scusa leggo qui Fra le varie cose La conduzione di Matteo Corradini Dei De Pils Come te le Questo è il mio sogno Cioè Il Sanremo che vorrei Questo veramente lo dico È Conduzione di Matteo Corradini Vallette Pippo Solo Betanimma Punzo E Giorgia Meloni Ah quindi il sogno erotico Di Matteo Esattamente Tutti e tre Ti farò l'imitazione più precisa Di Matteo Corradini Che si possa fare al mondo Prego Ma regà Ma regà Mi frega un cazzo Regà Cioè Pezzo Pezzo di Fasma Mega bello Mega bello Mega bello Il pezzo No vabbè regà Ma lui tipo Cioè Che poi calcola Che Fasma È tipo una malattia Ho scoperto Se hai un Fasma È una malattia Che te viene Alle palle E calcola che Però tipo Cioè Mega bella Sta cosa Io ce l'ho avuto Mi sono tatuato Oppure qua Adesso Un T-Max No questo è vero Manteo Un T-Max La coscia Lo sai È il più bel tatuaggio Del mondo Anche tatuato Resilienza Col GL Forse è la cosa più bella Che ha fatto Mattacorradini Nella sua vita Questo io veramente A me stima Sempre assoluta Allora Edoardo parlava prima Dei gruppi d'ascolto Grandi gruppi d'ascolto Più bel gruppo d'ascolto Che hai mai fatto Di Sanremo Beh ci fu un anno Guarda ci fu un anno A casa di amici Con Eravamo Beh eravamo in parecchi C'erano Maurizio Montesi Matteo Keffer Tutto un team Di grandi amanti Del Sanremo E mi ricordo Che ci fu il medley Di Tiziano Ferro E abbiamo cantato Ma quasi da lacrime agli occhi Perché veramente Tiziano Ferro Fece una roba Incredibile Ma il 2007 O il 2000 No dopo dopo Era tipo un 2000 Che era L'ultimo Che era un 2017 Forse Un prima 2016 Forse 2016 Ma l'anno scorso Non è andato Ha steccato tutto Quello che poteva steccare Ma non è steccato No Ha sbagliato una cosa Ha fatto solo Siete dei cacacazzi Cioè Ha fatto un medley Della madonna Questo Che sono tantissimi A fan di Tiziano Ferro Però fashion Dell'esibizione No Ha sbagliato Solo la canzone Di Mia Martini E dici poco Ho capito Ma quella canzone Ma quella canzone Era quella lì Che Tu che sei diverso Almeno tu nell'universo Che viene detta Da Bruno Lauzzi Non la può cantare un uomo Sì Lo sa Carmelo questo Carmelo Qual è quella canzone Che Bruno Lauzzi Disse una canzone Che lui scrisse E disse Non la può cantare un uomo Questa Non lo so Ma è bellissimo Minuetto forse Eh Quella scritta Califano Eh lo so Che la scritta Califano Però forse Bellissimo Questa cosa Cerca la cercala Potrei aver detto Una cazzata Questo è un grande gruppo Io l'ultimo gruppo D'ascolto che ho fatto Per guardare Sanremo È stato tre giorni fa Due giorni fa E ho sentito Una battuta molto divertente Tipica Dei gruppi d'ascolto Di Sanremo Detta da te Che quando è entrata in scena Loredana Bertè Hai urlato Come si urla Allo stadio Basta con quelle gambe Porca troia Io se sento Un'altra persona Che quando viene Loredana Bertè Ma che bene Le gambe che ha Ancora delle bellissime gambe Io mi imbottisco Di esplosivo Vado a Campo dei Fiori E faccio una strage Almeno tu nell'universo Almeno tu nell'universo Può essere declinata Al maschile E la scritta Scusami Guarda Non vorrei dire sciocchezze Ma l'ha detta Bruno Lauzzi Questa frase Però faccio un controllo Vai sì Poi mi ha fatto molto ridere Perché la prima cosa Che noti Loredana Bertè Ormai dall'inizio Degli anni 70 Sono quelle belle gambe Che hanno fatto vibrare Bjorn Borg E Adriano Panatta Ma che forse All'alba del Terzo millennio Non all'alba A terzo millennio Non si può più dire Non si possono dire Sempre le stesse cose All'infinito Sulle persone Una signora Di 70 anni Continuare a commentare Che canta comunque benissimo E va in scena Con la borsetta Perché comunque E che comunque Se la tiene lì L'età L'età davanti a tutto Sempre Il tuo gruppo d'ascolto Migliore che hai mai fatto Non faccio mai gruppi d'ascolto Noi in famiglia Sanremo Non si vedeva Lo vede nell'inti No mio padre Come il culto La fede Non vado in chiesa Come le partite Io le guardo da solo Io rapporto con Dio No mio padre Sanremo lo guardava Infatti avrei notato Anche le domande Sulle vallette Come cercava di virare Sulla sponda mediaset Di Sanremo Per giudicare I vestiti Di Ma Lo vista Non male Da perdersi Nelle sue gambe Questi erano i commenti E mia mamma Andava a dormire Perché si annoiava A vedere Sanremo Giusto Perché comunque Ancora esponenti Di quella cultura di sinistra Che si annoiava A vedere Sanremo Perché ancora Non era diventato Mid cult Sanremo Sì ma togli sinistra Era a destra A posto La benissima Sì 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 Quindi era Sanremo Ma mia madre diceva Sanremo non le piace Guardava le serie E l'ultima sera Prima di Sanremo È andato in onda Il commissario Ricciardi Un saluto all'amico Lino Guanciale Che se mia madre Lo incontra per strada Gli fa quello Che facevano le groupies Ai kiss Quando andavano in concerto In giro per gli Stati Uniti Watch your back Lino Guanciale La Rai sta pompando Una cifra C'è stata anche Un po' di polemica Sulle pubblicità Durante gli spot Si è detto Ma Netflix Amazon La Rai lo deve fare Per legge Per legge E nessuno ha notato Che la Rai sta caricando Sulle fiction A nastro Sì sì Adesso fanno una fiction Anche su di noi Immaginiamoci però La serie Rai su Cashmere Podcast Da chi vorresti essere fatto? Io da Claudio Gioè Ci sta perfettamente No 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 Zero Io non vorrei mai essere Claudio Gioè Ma chiedo Secondo te Chi mi dovrebbe Beppe Fiorello Beppe Fiorello Da Beppe Fiorello Eh sì Due siciliani Esatto Uno costa est L'altro costa est E lo produce la Lux E si chiamerà tipo Cashmere il podcast di Dio Di Dio sì Cioè comunque sempre Ma quando andavi a messa? Quante volte ti sei divertito Andando a messa? Caro Edoardo Io con il Signore di Gesù Cristo Ci sono cresciuto E chiediamo a questo infame Questo Questo uomo cresciuto senza perdono Quest'uomo qui E allora Che cosa dici? E poi succede che appunto Tahir sparisce Sparisce E a quel punto parte tutta quanta un'indagine Perché pensiamo Se è andato a Milano A convertirsi In realtà È andato a capire La religione cristiana In una Non so In una abbazia No che abbazia Da dei monaci Da dei monaci Trappisti a Milano Cioè il commissario avanzato Che viene coinvolto nelle indagini Però con questi suoi problemi di alcol Non riesce mai A gestire bene Queste informazioni Molto chiare Dottor Ravenna Dottor Ferrario Vangola Tu lo vado Il suo spettacolo E lui lo fa a Zingaretti Sì ovviamente Rocco Babaleo Rocco Babaleo Rocco Babaleo Sentite che meraviglia Sono questi microfoni Ragazzi Io vorrei Enrico Papi E Jerry Galà Enrico Papi E Jerry Galà Che entrambi Ad interim Interpretano Di diverse Tipo le sitcom No questa sarebbe Una grande fiction Kashmir La voce di Dio La voce di Dio E finisce il trailer Preghiamo Da lunedì In prima serata Però è tipo Preghiamo Preghiamo lunedì Prima serata Bellissima serie Questa la Questa la vendiamo È già venduta Se posso dire Tu sapevi Come faceva Striscia La notizia Ad avere i vincitori prima Il trucco era molto semplice Se ricordi C'erano dei melomani Nell'era del senso Di Striscia Che consideravano In realtà loro dicevano Durante la settimana Del festival Una serie Lasciavano delle tracce Dei nomi Mi ricordo con Ron Fu fatto Perché avevo visto La spiegazione E hanno detto Nelle parole Tipo dicevano Rosalino vince Cioè parlando Costruivano Il nome E lo facevano Per tutti Ovviamente E poi la settimana dopo Dicevano Ve l'avevamo detto Settimana scorsa Ripetere e sentire Il signor Iacchetti Rosalino vince Rosalino vince E sicuramente L'avevano detto Per tutti E quindi se lo montavano Fichissimo È come funziona All'otto Cioè c'è la combinazione Però è sparsa Non lo sapevo Vedi Non lo sapevo È una mia deduzione Ma ne sono sicuro Al 100% Ah quindi non è vero Non è mai stato Non è mai stato svelato Questo misto Anch'io lo penso Ne sono sicuro Che fosse così Perché loro ogni anno Sapevano il vincitore Loro chi è che svelavano A un certo punto Loro dice Vi diremo il vincitore Fini anni 90 Vero svelavano Noi sveliamo il vincitore A caso Non lo so Che poi c'è un vizietto Lì a striscia Perché comunque Quando pure Quando svela Masterchef Strano Perché non gli piace Fare un paio i boss No 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 In zona Cologna-Monzese Senti I vincitori magari Non possiamo dirgli Però un paio di pronostici Partiamo anche dal nostro Straordinario pubblico Perché se tu Se a te ti fa gioia A me mi fa L'amico Fiorello Beppe Diana del Bufalo No no scusa Cristiana Capotone Vero scusa Cristiana Capotone Cristiana scusa 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 No Cecilia viene interpretata L'attrice di Baby Che è Cecilia A liceo E Scusami Pronostici Chi vince Sanremo Secondo voi Dai Carmelo Premio della critica Fulminacci No premio della critica Chi vince Sanremo Questi meccanismi Allora vediamo un po' Sì Vado Podio Vado senza aver sentito i brani Podio Senza dire chi vince Rappresentante di lista Ora che manca il video Ok Ok Rappresentante di lista Vince Sanremo Sì Facciamo il podio Senza dire chi è Terzo Secondo e primo Ok Secondo me Podio No Tair Tair Podio Tigo Annalisa Fasma E Aiello E Ermalmeda Ermalmeda Vedi bravo Mi piace come ragioni Cristiana Io Purtroppo Temo che Ermalmeda Vincerà Sanremo Però non ho detto niente Perché Sanremo è sempre poi una sorpresa Perché l'anno scorso sembrava che Gabbania non aveva vinto Invece poi non ha vinto Vero Dico Ermalmeda Annalisa E Noemi Sul podio Ermalmeda Annalisa e Noemi Cecilia Rodríguez Temo pure io che Il vincitore sarà Purtroppo Ermalmeda La canzone è Bruttina Lo possiamo dire Possiamo dirlo E Quindi sul podio ci sarà sicuramente Ermalmeda Poi Annalisa Sicuramente Terzo posto Ci infilo Quella che vorrei che vincesse Che è Madame Non ci arriverà mai Perché I miei preferiti sono Madame e Fulminacci Io temo molto ragazzi Secondo me Allora vabbè Podio Vabbè Annalisa è sicura dai Annalisa Ermalmeda E Paradossalmente Renga Ragazzi Non stadio sono d'accordo con voi Ma Irama Non sottovalutatelo Perché Questo festival ha bisogno di una bomba Esplosiva E far vincere uno Che è sempre andato nelle prove Non è andato mai nel live Potrebbe La polemica Sì Stasera che mandano Cioè dopo che tu hai già mandato Rimandano le prove Cioè lui può vincere Sanremo solo con le prove E sarebbe la cosa che rende questo Sanremo Perché scatenerebbe troppo No lo so Però è proprio per fare la polemica Sto scommettendo Però se è la canzone che vince No è vero Non importa dove la fa La situazione Importa che la canzone vinca Arisa Dopo una brutta colite Dopo aver mangiato cinese Canta la canzone C'è Passa lì un microfonista La registra È un capolavoro Ma quei violini E vabbè quindi niente Consegniamo le buste Allo studio notarile avanzato In realtà non vi siete accorti Ma l'abbiamo detto durante la puntata Chi vince esattamente Per il principio di striscia Lo abbiamo detto prima E nella prossima puntata La prossima settimana Vedrete Che abbiamo già annunciato il vincitore Beh questo E beh direi per finire La settimana dopo Che è passato Sanremo Tu senti la sindrome Del nido vuoto Cioè ti manca? Ti manca? Neanche un po' Cioè perché per esempio Per dire Questa è un'espressione Che mi ha regalato Matteo Corradini Di solito si parla di sindrome Del nido vuoto Dopo che una donna partorisce Lui la applicò su se stessa Dicendo Ah regà Io quando caco Poi ho la sindrome Del nido vuoto Guarda io non ho la sindrome Del nido vuoto Semplicemente perché Si potrebbero iniziare A fare altre cose Dopo il festival di Sanremo Per esempio vaccinarsi Vaccinare gli italiani Per dirne una Cioè far ridere Comunque AstraZeneca No guarda adesso Non possiamo C'è Sanremo Stasettina Non possiamo vaccinar Nessuno C'è Sanremo L'ho chiamato Draghi E noi vaccini Dopo Sanremo Ma comunque è vero Continua ad essere un evento Per cui si blocca il paese Anche il momento In cui è bloccato Si blocca ugualmente Ma cosa deve succedere infatti Eh in questo momento storico Per non fare Sanremo Agli italiani Cosa deve succedere Nulla Guerra nucleare Tipo il sistema televisivo Si basa su Sanremo Una buona parte Degli introiti di tutto l'anno Quindi non Cioè finché ci sarà la tv Non potrà non esserci Sanremo Io quest'anno non l'avrei fatto Beh In polemica Guarda Ma non si può Non si può Il primo giorno Non era nelle prime notizie Dei siti online Cioè era fra le primissime Ma non nella copertina online Dal secondo giorno in poi È sempre primo Sì Anche se Zingeretti Ha provato a superarlo Dicendo A fare la Luigi Tencata Nel PD Non posso vivere in un mondo In cui Italia Viva Vale il 2% E fa cadere il governo Esatto Però direi che Ne parla Sui giornali Ne parla Libero Ne parla Corriere Ne parla anche Repubblica Sì Vabbè ci sta È successo ieri Vabbè ci mancherebbe Però neanche quello Ha avuto il peso Che Sanremo ha Nelle nostre vite Che avrà probabilmente Per sempre Tra l'altro quest'anno Se vinci Sanremo Non vai all'Eurovision Song Contest Ma prendi il segretariato Del PD Questa è la Quest'anno Ah e scusa Salutiamo però Con il grande Diodato Perché Boraccio Ragazzi L'anno scorso Ha fatto non una bella canzone Ha fatto sinceramente Un capolavoro Un capolavoro Sì E porca miseria Quanti live avrebbe fatto Il dottor Diodato E li sono saltati Infatti Bene Ricorderemo nel futuro Erdiodato Come quella condizione In cui veramente Sei al top di una cosa E non puoi farlo E si ferma tutto il resto Purtroppo Mi è successo Erdiodato Mi è venuto Erdiodato Però noi gli auguriamo il meglio Perché è un grande Adesso appena si potrà ricominciare Andremo tutti A tutti i concerti Che non ha fatto Cioè prende Si esibirà il maracanano Per riempire Tutti quelli A cui non sono andati Bellissimo Bene Ringraziamo i nostri ascoltatori Ringraziamo Tair Carmelo Cecilia Alicia Cristiana Grazie Luca Grazie Edoardo Grazie a tutti voi E ci risentiamo La prossima settimana Con una nuova puntata di Kashmir Perché Sanremo Perché Sanremo Perché Sanremo Come la vogliamo fare Diciamo la verità Cioè Che noi adesso Avevamo staccato Secondo me la monti Quasi alla fine Dopo la sigla Diciamo la verità Avevamo finito Ci siamo tolti le cuffie E abbiamo sentito La voce Della Dell'innocenza Dire Esatto Arrega Ma che piace Mi è piaciuto Diodato No vabbè Noi abbiamo detto Carmelo Roll Again Perché qua facciamo Qua si fa la polemica Non ti è piaciuta Fai rumore No Come no Un piagnistero Ma perché non hai Non hai un ex storia Non hai Ma non mi frega nulla Non riesci a immedesimarti Un piagnistero È ancora giovane Per queste cose Eh sì Ma non è vero Era un pezzo bellissimo Allora Secondo me Ora non vi sentite offesi Sei un piagnone Ti piace Diodato Questa è la verità Scusa fammi capire Ti è piaciuto il pezzo De ultimo E invece Diodato Ti piace bottiglie privè Non ti piace Diodato Era meglio Gabbani Vabbè Cioè bottiglie privè Un piagnone Ma sono due cose diverse Ah è vero Perché pure bottiglie privè Adesso è vero È il pezzo Il pezzo emo Se ne ha appena Sai che se Taira ha realizzato ora Che Cioè ha capito Di essere anche lui Un piagnone Soprattutto vogliamo dire Che Diodato Abita forse nel mio palazzo Forse sì forse no E forse da un po' Vedo sempre questi 25-30 anni Fare feste Entrare nel mio palazzo 25-30 Diciamo Ma che ne so C'è un'occhio La mascherina Non è che da fronte Capisci Se si stronzi De 30 anni Certo Dalla stempiatura Sì E mi pare proprio Che so dei quarantenni Stefano Quindi ti abita nel palazzo Tu ti ho dato Sì attualmente E fa troppe feste Quindi banalmente Fa troppo Fa rumore Questa era buona Tair ti faccio Ma voi avete sentito Un altro pezzo di Diodato Quello del film Di Ospetek No 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 film Sei andato su Youtube A sentire un altro pezzo Di Diodato Sì Perché Lei no Manco io Manco io Vabbè ma io Carmelo Sentiamo la voce Della verità Eccomi Allora noi abbiamo suonato L'anno scorso Eccomi Un po' di boicottaggio C'è stato Perché le cose più belle Che mi hanno fatto Non sono state pubblicate Su internet Quello accessibile a tutti C'è Diodato Che ha cantato Improvvisando Nel deep web Ha cantato Insieme a te Stuo bene Devo dire Che mi ha fatto Vibrare Gran piacere Vabbè Però per favore Diodato Facci dormire Tair Perché se no Prende male i fuochi Quando siamo qui Diodato